Occhio al movimento dei compagni Velinkovic Savic La manovra interrotta senza problemi Borges Gran palla in mezzo Occasione d'oro Uregna Mesut Ozil è certamente fra i più attesi Attenzione a Ozil L'arbitro lascia giocare C'è il vantaggio Occhio a Ozil che è solo Super il portiere qui Commettano da lì Un pallone filtrante Non è sbagliato Trentissimo qui Grande recupero Occhio a Ozil Avanza la Germania Occhio a Berne Deve sfruttare questa occasione Se vuole pari Occhio al movimento dei compagni Velinkovic Savic La manovra interrotta senza problemi Borges Gran palla in mezzo Occasione d'oro Uregna La manovra interrotta senza problemi